Qualcuno non era capace di vendere i gratta e vinci. Neanche uno sul volo per Londra di ieri, capito? Cioè adesso per cortesia voglio sapere chi è. Faga cos'è? Questa io non so niente. Non mi interessa, chi è la colpa? Questa a me mi avevano detto che dovevo vendere il profumo. Questa non hai venduto il profumo. Negota. Basta far finta adesso, lo sappiamo benissimo chi non li vende i gratta e vinci. Il signorino è impegnato a guardarti il posteriore. Io ne ho venduti un bordello ieri. A che non comprare quindi a me perchè il marino cresce a Puer Marte. Questa siamo tutti più poveri. Non mi interessa. Lo sapete cosa succede dalla settimana prossima quando arrivate in aeroporto? Pensavo dateci almeno le scarpe col tacco diverso. Non hai capito allora? Dalla prossima settimana chi non vende salta l'aereo a pensare non darmi più, capito? What! Signora! Allora! God!